salve ragazze oggi faccio un tutorial cioè non è un tutorial ho fatto un ordine a un sito di trucchi di cosmesi o come chiamare voi make up io non sono molto esperta di questa terminologia perché capite io non è il mio campo però siccome ho fatto questo ordine alla my body soul una ditta di prescia un sito di prescia dove ho acquistato alcuni trucchi e volevo insomma farvi sapere di che cosa si tratta allora io ero molto interessata ad acquistare la trousse 88 colori matte di zoeva però ci sono stati alcuni problemi sulle spedizioni quando si raggiungeva il numero della ragazza e ho trovato questo sito siccome qui c'è una trousse 88 colori matte io volevo farvi insomma vedere che cosa mi era arrivato nell'ordine per capire se effettivamente è uguale alla zoeva o meno allora la confezione io l'ho trovata in questo pacco che non c'è scritto niente come soltanto questa questa targhetta esterna al pacco dove poi compare un numero nell'angolo 88 la mia web non è adatta per fare i tutorial dei trucchi insomma ecco però ho voluto provare cioè a farvi vedere che cosa mi era arrivato da questo sito in poche parole o mi è arrivata con tanto di carta pralinata che serve per non rovinare i trucchi questa se si riesce a vedere è la paletta questo è lo specchio adesso io la sto smontando perché la tengo in mano messa in modo male comunque questa è la palette io credo che sia molto cioè che sia proprio uguale non simile alla palette di zoeva sono 88 colori tra cui un po' shimmer e ci sono la maggior parte sono matte da questo sito in più ho comprato questa mini truce della safro dove ci sono dei colori dei colori non so se si vedono perché io purtroppo ecco su questi sono molto brillanti poi posso farvi vedere così ma non so se si vede questo è l'aggiorro poi c'è 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 l'aggiorro poi vi posso far vedere un altro colore cioè io non sto spingendo passo il dito sui colori tranquillamente e il risultato è questo qui questo per quanto riguarda questa mini truce della safro con tutti i colori molto brillanti molto molto brillante e adesso vi faccio vedere anche qualche colore che prenderò dalla palette 88 non so posso prendere un colore un a caso questo ad esempio non è matt e scine come dite voi perché io non so neanche non so che colore sia però oppure 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 questo verde acqua mamma mia questo qui questi pure scrivono tutti abbastanza bene questo è marrone io credo che se metto la web in maniera speculare non mi sbaglio questa è la truce 88 colori poi in più avevo acquistato un rim sempre della safro un waterproof mascara l'inglese però io meglio non ve lo leggo che faccio più bella figura questo però è il rim il rim è a una quantità di prodotto io non lo trovo ovviamente perché non saprei dove andare a leggere 13 grammi questo qui e io avevo acquistato solo queste tre cose la palette 88 la palette della safro e mi hanno mandato in omaggio questo rossetto della playboy colore molto molto scuro che è il colore che c'è scritto paparazzi ma non credo che sia proprio il colore del proprio è abbastanza scuro però non male sembrava peggio questa è la confezione e poi ecco si è il numero 72 paparazzi si chiama con il puglietto mmm che labbra che è inflata poi mi hanno mandato sempre della safro questa questa confezione sono tutti brillantini che hanno in poche parole questa particolarità che hanno il pennellino che prende i brillantini uno per ogni colore uno per ogni colore così argento quello che viene da blu verde e giallo questo pure è della safro me l'hanno mandato per regalo a lower glitter a lower glitter lollo questo è quello che mi hanno mandato per regalo questo blush silky blush da 8 grammi è un colore 04 ma anche un blush cioè io sono ignorante quella sembra un minaccia la luce un illuminante però non si vede io purtroppo non ho una telecamera che possa andare bene con per far vedere i particolari trucchi perché non non mi occorre per quel sistema però non so come fatelo vedere come coprire il la luce per poterlo far vedere comunque è molto albicocca non è che pesca stavolta è proprio albicocca e molto lucido lucente probabilmente non so voi lo utilizzate come punto luce in questo momento non saprei proprio poi ve lo dite voi eh perchè io non lo so però ecco qui ecco lo specchiettino ecco lo specchietto c'era anche un pennello che è volato via che non c'è vero per niente che è un microscopio e quindi ecco io volevo farvi sapere che questo ordine insomma io ho fatto un ordine sabato pomeriggio quindi calcolando che domenica ovviamente non hanno lavorato oggi è mercoledì e mi è arrivato oggi pomeriggio questo questo ordine poi se vi volete fare qualche domanda se posso vi rispondo e ecco volevo farvi partecipare ecco di questo mio ordine che ho fatto per il make up buonanotte perchè tanti infatti sono stantissima un bacio e ci vediamo alla prossima volta